canale di francesco samani benvenuti in questo nuovo video in cui nello specifico si parlerà del nuovo pay e degli ultimi accadimenti che hanno che lo hanno interessato se ancora non l'avete fatto iscrivetevi qui sotto al canale e lasciatemi un commento e ditemi che ne pensate allora relativamente e specificatamente al nuovo pay trovate un video dove ne parlo in maniera dettagliata quello che adesso ci interessa è un precedente che è avvenuto nel lazio relativo alla sentenza numero 97 95 del 2000 del 14 settembre 2021 in cui il tribunale amministrativo della regione lazio della sezione 3 bis ha disposto all'allunamento del decreto interministeriale numero 182 del 2020 e dei suoi allegati in particolare negli allegati di questo decreto legge vi erano le linee guida i modelli di pay e altri allegati d'altra parte il miur ha informato le scuole su quanto disposto dal tar e ha dato indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusioni degli alunni con disabilità nonché in particolare sulla modalità di redarli il pay per l'anno scolastico 2021 2022 tutto questo al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e o degli esiti definitivi di un iter giudiziario in particolare il ministero ha ricordato che resta operativo il vigente decreto legislativo del 66 numero 66 del 2017 che dà indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti convolti nel progetto di inclusione relativamente a che cosa relativamente al piano educativo individualizzato quindi al pay articolo 7 del comma 2 lo potete andare a ritrovare se volete con riferimento alle modalità e i tempi di redazione quindi individuando anche gli obiettivi educativi e didattici poi anche relazioni ai gruppi per l'inclusione scolastica come ad esempio il nell'articolo 9 viene menzionato il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione con particolare riguardo poi alla composizione e alle sue funzioni lo trovate nel comma 10 oltre che alla partecipazione degli studenti al glo lo trovate nel comma 11 in sintesi dato che molti di voi me l'hanno chiesto che cosa dobbiamo fare professore bisogna elaborare il pay questo è quello che dice il ministero riadattandolo alle disposizioni da del altar e quindi si trova a tenere conto dei motivi per i quali c'è stata una censura di ricorso nel merito in particolare bisogna rispetto alle funzioni del glo dare diciamo una maggior rilievo a quello che vi è scritto nel decreto 66 2017 e soprattutto ne parlano diversi professori di rilievo e in ogni caso ci sono nate questioni essenzialmente riconducibili alla possibilità di frequenza con orario ridotto perché molti studenti con articolo 3 ad esempio fanno visite vengono seguiti da fisioterapisti e quindi frequentano la scuola con orario ridotto ci sarebbe c'è dell'altro ora ve lo dico gli altri punti toccati infatti sono relativi all'esonero delle materie per gli studenti con disabilità e relativi anche all'assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza e nello specifico quali sono le indicazioni che vengono date per esempio relativamente alle composizioni del gileo si ritiene opportuno che nel funzionamento di tal organismo non vengono non ci siano no limitazioni al numero degli esperti anche se poi di fatto possono venire ritribuiti dalla stessa famiglia considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico al ds un potere di autorizzazione che ad avviso dei giudici del tar non ha un espresso riferimento in normativa e questo andrebbe poi ad incidere sulle garanzie delle famiglie relativamente agli alunni con disabilità articolo 3 e 4 la legge è la 182 del 2020 come detto prima in teoria non eccolo qui la frequenza con orario ridotto loro dicono di no non vi è non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovute a terapia o prestazioni di natura sanitaria con conseguenze contrasto con le norme diciamo scolastiche io non entro diciamo nel merito se giusto o sbagliato molti colleghi pensano che questa posizione del tar non sia proprio eccezionale non sia bellissima però io non voglio entrare nel merito ma vi sto dicendo quali sono cioè essenzialmente come comportarvi di fronte a questa anomalia insomma no che vi è il nuovo pay ma il tar boccia diciamo buona buona parte delle diciamo novità quindi no anche all'esonero delle materie non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe con partecipazione ad attività di laboratorio separate perché andrebbero in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 62 del 2017 in cui la possibilità di esonero è contemplata solo per gli studenti con affetti da dsa quindi disturbi specifici dell'apprendimento qualora nel caso vengano a presentarsi ulteriore comorbilità adeguatamente certificate soltanto per la lingua straniera o per le lingue straniere peraltro previo senso della famiglia deliberazione del consiglio di classe lo potete andare a vedere all'archicolo 10 comma 2 della legge 182 2020 finiamo relativamente anche alle questioni delle risorse economiche in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età volutiva delle discenti certificazioni che deve attuarsi mediante l'adozione delle linee guida da parte del ministero della salute non si è ancora realizzato in concreto il coordinamento tra certificazioni di funzionamento e modalità di assegnazione delle ore di sostegno ovvero di redazione del pay quindi non possono essere predeterminate attraverso il range le ore di sostegno attribuibili dal GLO costretto legame dello stesso rispetto al debito di funzionamento ed esautorazione delle discrezionalità tecnica dell'organo collegiale ve lo potete trovare dall'articolo 18 della legge 182 2020 quindi in conclusione risulta prioritario in questa fase ridigire il pay in che modo entro i tempi quindi i tempi questo sicuramente lo chiederanno anche al tfa sostegno bisogna fare riferimento al decreto legislativo 66 del 2017 quindi di norma non oltre il mese di ottobre pur sempre nel rispetto della recente sentenza tar benissimo spero di avervi dato delle indicazioni utili e con questo io vi ringrazio per attenzione vi auguro una buona continuazione di giornata o di serata e un caro saluto da Francesco Samani